Siamo in live? No, a parte di sì. Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a giocare a StumbleGuys, ragazzi mi non vedo l'ora. Ma ragazzi c'è un'altra live che è in programma, che ovviamente ora lì da un'altra parte, quindi in golcina, stanno registrando la canzone di Miko. E come avete visto, se andate sul video c'è una live dove c'è scritto un programma. E quella è la live della canzone di Miko. Ancora la stanno facendo, speriamo che non si sente l'audio. No, me ne vado via. Prima che la sentite. E non la voglio spoilerare. Non so ragazzi che voi la volete sentire ora. Però ragazzi, domani la potete vedere. Domani, 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 domani. Poi ragazzi è sera. È sera. Ronaldo, c'è scritto uno che si chiama Ronaldo Hit Ui. Siu, no sui. C'è siu, no ui. Ma Ronaldo, c'è cambiato cosa? Non fai più siu? Ora Ronaldo fai ui. Ronaldo, non era meglio siu? Mi sa che Ronaldo preferisce ui. No, 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 no. Questa sera perdo. Mi sono qualificato sesto, 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 sesto. E qua sono più forte. Vai. Ah, quello che veniva il blu è la scritta pro di Gianna perché era un bro. Cioè, a parte che io sono un bro perché... Cioè, dei bro non perderebbero mai. Ora è così dove stare attenti, eh. Perché Ronaldo potrebbe tirare una scivolata che ci potrebbe far arrivare a un blocco e far gol e inizia a fare ui e non voglio che fa ui, che mi dà fastidio. Non è che mi dà fastidio, però è solo questo che fare, raga. Allora, se non ho aspettato nel live, io non so come fare. Allora, se non ho aspettato nel live, io non so come fare. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Anzi, provo a mettere la copertina nei video. Provo a metterla. Provo. Cioè, non è che ci riesco. Però provo. Provo, dai. Per andare sullo stembole. Per andare sullo stembole mi sembra difficile, eh. Ad alcuni è facile, ma per me è difficile. Ora non più per me, perché sono primo. Capisco che voi stai dicendo che sei primo non mi significa che sei un bro, però... lo contro qualcuno. Giulia si chiama questa qui, che vuole qualificarsi. sì, 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 no, 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 no vi saluto, ciao!